Siamo a cortinametraggio e è appena finito. Giorgio Pasotti, Marco Leonardi, Marco Palletti e Tosca D'Aguino. Appena finito e noi abbiamo colto l'occasione per intervistare Marco Palletti, anche perché sei seguito, preceduto come ti pare, da una fama di quell'incredibile di Lissù, Orra. Sì. E però qui te le senti un tuo? Sì, è un corto non mio, non è mia, la regia è la regia di Valerio Groppa. Scusate. La regia di Valerio Groppa, io sono il protagonista di questo corto che è Gran Finale, questa commedia, insomma, centrata a Castiglioncello, che racconta Castiglioncello con diverse linee narrative e quindi spero che vedrete, insomma, presto. Senti, cosa ti ha portato tutta questa popolarità di Gomorra? Responsabilità. La voglia di confrontarmi con i giovani, con chi è ancora più giovane di me e di appunto... Tu sei giovanissimo, tra l'altro. Sì, ho 26 anni, tra un po' 27. Capirai. Ma il punto è questo qui. Il punto è proprio questo, la vita è mia, come dice lei giustamente, però bisogna prendersela la vita, perché solo l'età è molto poco. Credo io, credo, anzi, bisogna dare un valore all'età e a quella che è la propria popolarità. Età, popolarità, responsabilità. Marco, cosa c'è dietro il tuo angolo? Dietro il tuo angolo? Dietro il mio angolo? Non lo so, io cerco sempre di farmi sorprendere dagli angoli. Girando l'angolo puoi trovare qualunque cosa, sicuramente mi godo quello che c'è prima dell'angolo, dopodiché quando giro l'angolo mi godrò quello che c'è dietro l'angolo. E ne vedrò un altro, probabilmente, di angoli. Siamo pieni di angoli, siamo angolosi. Grazie Marco Valvetti e tutto il meglio. Grazie. Grazie a tutti.